Ciao, sono Michele Scotto Lavina e ci troviamo all'Avinum Wine Resort. Il Lavinum prende proprio il nome dal nostro cognome Lavina, che poi dal latino Vinum abbiamo trasformato in Lavinum. Una struttura che risale a 1857, che noi abbiamo recuperato come progetto, prima già da tempo una vecchia cantina che sfruttava i vigneti dei terrazzamenti dei terreni che circondano la struttura. Abbiamo recuperato sia la struttura che i terrazzamenti, impiantando vigneti storici della zona fregrea. Qui si trovano la falanghina e la biancolella, che era chiamata uva dell'isola. Abbiamo anche dei rossi come Piedi Rosso e del Primitivo, che non è storico della zona, ma abbiamo trovato dei ceppi già in zona e quindi li abbiamo ripristinato. I nostri vini abbiamo un vino spumante che è una falanghina, di cui non viene fatta la spumantizzazione in loco. Un vino fermo, un IGT sempre falanghina e un vino rosso, che è un vino primitivo. Il prossimo anno andranno altri due vigneti in produzione, quindi un Piedi Rosso e faremo anche una bollicina, uno spumante con metodo ancestrale. Oggi questa struttura fa sia accoglienza con quattro stanze, una ristorazione molto flegrea, quindi di terra durante il periodo invernale, prettamente di terra, e di mare durante il periodo estivo. Cerchiamo di mantenere le tradizioni con uno sguardo alla modernità. La cucina viene curata da un ragazzo sempre di Montediprocida, uno chef molto giovane, molto bravo. In sostanza ripropone quella che è la cucina flegrea, in chiave moderna. Vi aspetto, ci troviamo a Montediprocida, in via Torregaveta 137 bis. Potete trovare i nostri contatti sulle nostre pagine Facebook e Instagram e il nostro sito www.lavinum.it. Grazie a tutti.